buongiorno a tutti buongiorno a tutti torniamo con le dirette diciamo in versione movimentata con sfondo bucolico vi ho abituato con un po di dirette dalla dalla sardegna con sfondo collinare marittimo adesso sono tornato in pianura padana e questo è lo sfondo che vi offro il fiume adda un posto che diciamo con cui ho un legame particolare affettivo perché qua insomma ci ho passato molti molti anni della mia infanzia e giovinezza ringrazio persone che sono già in diretta connesse adesso e vi invito a fare come al solito il condividi se mi aiutate a condividere questa diretta si possono unire altre persone il tema è quello del diciamo della gestione dell'opera di banksy dei diritti sulle creazioni di banksy che è stato un tema connotato aver destato particolare curiosità in un posto che ho fatto ieri pomeriggio allora visto che alcuni hanno commentato insomma spiegaci meglio come funziona allora colgo l'occasione di questo sabato pomeriggio a cavallo tra l'estate e l'autunno perché sono uscito a fare l'ultimo bagno in piscina però inizia a essere un po freddino e poi è stato anche un passaggio di pioggia e quindi magari alcuni di voi sono a caso sono lì davanti al cellulare e possono imparare cose nuove quindi però datemi una mano a fare condividi perché come sapete questa pagina è seguita da circa 10.000 persone ma insomma se più persone riescono ad arrivare a questo contenuto a questi contenuti magari magari tutti riusciamo ad avere un dibattito migliore più e più virtuoso quindi fate condividi vi ringrazio così al che i vostri contatti possono partecipare allora come vi ho detto questo è il fiume Adda a Lodi dallo zatterone dall'imbarcadero della canottiere di Lodi cosa è successo è successo che l'ufficio proprietà intellettuale dell'unione europea ha detto no a Banksy artista street artist per chi non sapesse chi è Banksy è uno dei principali portavoce della cosiddetta street art diciamo coloro che disegnano su muri e le cui opere vengono presto cancellate perché magari il giorno dopo pochi giorni dopo vengono tolte dai muri vengono cancellate proprio a volte per disposizione dei tribunali o delle polizie locali e quindi rimangono in versione fotografia e questo è un modo di fare arte particolare effimero in cui a volte gli stessi street artist dichiarano di non volersi di non volersi diciamo di non voler sottostare alle classiche regole della proprietà intellettuale del diritto d'autore Banksy in una sua dichiarazione riportata più volte dichiara che il copyright è per perdenti è per sfigati per loser che tecnicamente si traduce perdenti ma ha più un valore di sfigato per la nostra per la nostra accezione e cosa è successo che si è riplicato un po' lo stesso tema si è rivisto lo stesso tema che avevamo visto in una sentenza risalente al 2000 una stessa del tribunale specializzato in proprietà intellettuale di Milano che si era occupato del caso Banksy per i suoi rapporti con la società che aveva organizzato la mostra al MUDEC se vi ricordate tra la fine del 2018 e l'inizio e l'inizio del 2019 c'era stata una mostra molto importante su Banksy con le sue opere e con opere legate alla sua attività organizzata al MUDEC di Milano e su quella mostra si era creato un contenzioso che adesso vi andrò a raccontare perché alcuni ieri ho postato appunto il testo della sentenza del tribunale di Milano e alcuni mi hanno detto no dacci una mano a capire questa cosa perché la sentenza è complessa e lunga sono 14 pagine non è così lunga in realtà rispetto ad altre sentenze però adesso vi spiego un po' cosa è successo però quello che si è rivisto anche in quest'ultima notizia di questi giorni cioè del tribunale dell'ufficio proprietà intellettuale della dell'unione europea che ha rifiutato una registrazione di marchio è più o meno simile ovvero Banksy cerca di tutelare le sue opere sovrapponendo da un lato il diritto d'autore dall'altro il diritto dei marchi e lo fa in un modo un po' difficile un po' complesso e appunto a volte poco praticabile perché da un lato cosa possiamo dire allora lato diritto d'autore innanzitutto è difficile per un artista che dichiara pubblicamente di non voler reclamare nessun diritto d'autore sulle sue opere perché il diritto d'autore è da sfigati è difficile poi ad un certo punto utilizzare quello strumento per inibire utilizzi delle sue opere che non sono a lui gradite o che stanno diventando stanno sfuggendo dall'ambito della divulgazione culturale diventando commerciali allora dall'altro cerca di sovrapporre a questa tutela classica che ci si potrebbe aspettare per le opere creative come le sue opere diciamo pittoriche che appunto ricadono squisitamente sotto il diritto d'autore cerca di sovrapporvi la tutela di marchio cioè alcune delle sue opere più rappresentative vengono considerate come marchio perché effettivamente se pensate alla bambina con il palloncino e il lanciatore di fiori che sono le sue due probabilmente opere più rappresentative e più iconiche intanto mi muovo un po' se non vi annoiate quelle risultano hanno una cosiddetta capacità distintiva un certo impatto sul sul pubblico da poter essere considerate anche anche marchio commerciale pensate a lanciatore di fiori usato per fare le magliette per fare i cappellini per fare i che ne so i portachiavi e il merchandising legato ad una mostra che è esattamente quello che è successo a milano cioè a milano la mostra non era organizzata da banksy perché lui in quanto street artist non organizza mostre allora le organizza ma non tutte quelle che vedete che parlano delle sue delle sue opere quindi a volte ci sono soggetti che in autonomia decidono di organizzare una mostra su banksy e non tanto di banksy utilizzando le sue opere e quindi appunto facendo affidamento sul fatto che lui non reclami un copyright un diritto d'autore sulle sue sulle sue creazioni qual è il discorso che poi quando organizza una mostra normalmente una società in questo caso era una società legata al gruppo sole 24 ore nel caso italiano realizza anche il merchandising della mostra quindi non solo il catalogo con le opere quindi in un'opera diciamo editoriale ma anche come dicevo i cappellini magliette spillette quadernetti portachiavi le penne la chiavetta usb con indicato il nome di banksy o addirittura la firma di banksy o addirittura appunto le le sue opere principali in quel caso le opere non vengono utilizzate in quanto opere creative non è una vera e propria riproduzione di opera creativa nel senso che non è che sto facendo copie del quadro da appendere ma sono diventa l'opera è diventata anche marchio commerciale perché distingue un prodotto e fa pensare che quel prodotto venga in qualche modo da banksy quindi questo va più a toccare le corde tipiche del diritto dei cosiddetti segni distintivi cioè l'opera dell'ingegno l'opera creativa diventa assurge assume anche una funzione di marchio distintivo è quello che è successo ad esempio con alcuni personaggi che ne so dei fumetti no pensate a hello kitty hello kitty è un gattino di un fumetto di un cartone animato che però poi è stato sradicato completamente dalla sua dalla sua origine diciamo contesto originario di gattino che partecipa a questo questo cartone animato questi fumetti e vi è stato messo come diciamo marchio per qualsiasi cosa addirittura ho visto che fender aveva fa se cercate c'è una fender stratocaster modello hello kitty oppure c'erano in un certo periodo gli assorbenti di hello kitty ok adesso così per dire il portachiavi la carta igienica di hello kitty è chiaro che lì è un uso di un'opera creativa quindi tutelata da diritto d'autore perché un personaggio dei fumetti è un'opera tutelata da diritto d'autore che però viene spostata dal suo ambito diventa anche marchio commerciale ecco banksy cerca di sfruttare esattamente questa scusate cambio braccio perché se no non ce la faccio banksy cerca di sfruttare esattamente questa duplicità di strumenti che la legge diciamo che le leggi sulla proprietà intellettuale prevedono e cioè da un lato dice che dal punto di vista del diritto d'autore lui non ha molto interesse a tutelare i diritti perché la sua street art e quindi è fuori dalle logiche del diritto d'autore nello stesso tempo però ha dato incarico ad una società che si chiama pest control una società una limited inglese per tutelare i suoi diritti di marchio e i suoi diritti d'immagine quindi se vogliamo organizzare una mostra in cui si sfrutta il nome di banksy la sua firma le sue opere dobbiamo passare dal vaglio e quindi pagare i diritti a questa pest control che è una società una sorta di srl quindi una società commerciale a tutti gli effetti che si occupa di questa attività ok quindi per coloro che non riuscite l'ho visto anche nei giornalisti cioè ho visto che i vari articoli che sono usciti ieri e anche sui quotidiani nazionali importanti visto che spesso gli articoli sono scritti giustamente cioè da giornalisti che non hanno una preparazione in materia una materia così tecnica come quella di cui mi occupo io cioè la proprietà intellettuale hanno fatto molta confusione diciamo su questi due piani non hanno tenuto distinto due piani quindi ho visto dei titoli davvero abbastanza forvianti scusate ho finito è finito il sentiero devo tornare indietro ho visto dei titoli un po forvianti che appunto facevano un po il polpettone del del mondo cioè il polpettone di questi due istituti giuridici che sono il diritto d'autore anche detto copyright all'inglese e il diritto dei marchi che in realtà ragionano e funzionano in modo molto diverso e anche in questo caso di banksy non solo ragionano e si comportano in modo molto diverso ma appartengono a soggetti diversi perché il diritto d'autore sulle opere di banksy qualora lui volesse esercitarlo appartiene apparterebbe ancora lui a lui come persona come artista sempre che sia un artista singolo e non sia un gruppo di persone perché sono varie le ipotesi no sulla sua identità alcuni sostengono che sia il leader dei Massive Attack gira un po questa questa voce che pare sia forse anche abbastanza verosimile altri dicono che sia un collettivo di persone non lo sappiamo ma questo non ci deve stupire dal punto di vista del diritto d'autore cioè le opere pseudonime anonime esistono da quando esiste il diritto d'autore cioè esiste se andate a vedere già Elvis Presley firmava i brani con pseudonimo un mogol si è firmato per anni con un pseudonimo senza che si sapesse bene chi fosse poi e si è emerso dopo esiste Elena Ferrante che fa libri di altissimo successo venduti in libreria di cui non si conosce bene l'identità quindi non è questo che si deve stupire cioè non è il la mancanza cioè il fatto che non si sappia la reale identità di un autore a far venire meno il diritto d'autore però insomma quello che è stato detto proprio dall'ufficio proprietà intellettuale in questi giorni sembra andare in quella direzione che è un artista di cui non si conosce bene l'identità che ha sempre dichiarato di non voler esercitare il copyright sulle sue opere non possa esercitare tutti i diritti previsti dalla legge ma in quel caso ripeto l'ufficio proprietà intellettuale dell'unione europea stava rispondendo ad una richiesta relativa al marchio non al diritto d'autore perché il diritto d'autore tra l'altro dobbiamo ricordare e qua scusate se vado un po' sul tecnico esistono anche i cosiddetti diritti morali d'autore quindi quei diritti che l'autore anche volendo non potrebbe diciamo cedere quindi a cui non potrebbe nemmeno rinunciare vero è che Banksy è diciamo si dice essere inglese essere un cittadino del regno unito luogo dove i diritti morali non ci sono quantomeno non vengono esercitati pienamente come in altri paesi d'europa però insomma dobbiamo considerare anche questo aspetto però ecco non facciamo troppa confusione tra questi due livelli uno quello del diritto d'autore che riguarda la tutela delle opere quindi la riproduzione delle opere di Banksy e quello del diritto di marchi che invece riguarda l'utilizzo di queste opere come segno distintivo e quindi sradicate dal loro contesto artistico creativo e portate per essere diciamo per freggiare prodotti per freggiare aggeggi vari cappellini magliette su questo Banksy è sempre stato abbastanza restrittivo cioè dal lato dal punto di vista del diritto d'autore ha sempre detto non mi interessa esercitarlo dal punto di vista del diritto di marchio invece Banksy non gradisce che le sue opere vengano depredate da soggetti commerciali per realizzare appunto merchandising senza che a lui venga qualcosa in tasca allora ha creato questa pest control questa società commerciale che invece ha il compito esattamente di fare questo cioè di controllare l'esercizio di questo diritto di marchio e di cedere licenze a pagamento per realizzare per fare questo tipo di usi delle sue opere ok chiaro la distinzione se voi andate a leggere la sentenza che vi ho messo nel link di ieri pomeriggio che è quella a cui alcuni mi hanno chiesto ma per favore dacci qualche delucidazione troverete esattamente queste cose cioè la sentenza del tribunale di Milano ha proprio creato diciamo sottolineato questa distinzione tra i due livelli e troverete tutta la diciamo ricostruzione del caso e nella sentenza vi racconta cosa è successo scusate mi sono andato fuori focus vi racconta cosa è successo nel 2018-2019 perché la pest control ha deciso di fare causa alla società organizzatrice della mostra del MUDEC per recuperare diciamo per far rilevare la violazione dei diritti di marchio infatti nella sentenza italiana il giudice riconosce che non è possibile far valere un diritto d'autore un copyright in senso pieno perché Banksy ha sempre dichiarato di non volerlo esercitare nello stesso tempo però ritiene sensato il giudice il tribunale di Milano che solitamente su queste sentenze su questi argomenti ci vede molto bene come come tribunale invece ritiene sensato che qualora queste opere venissero sradicate dal loro contesto creativo e usate come segno distintivo quindi come marchio in un ambito quindi diverso con diritti diversi in quel caso ha senso tutelarle e quindi in quel caso ha senso che ci sia una società commerciale che esercita in nome per conto di Banksy questo diritto di marchio chiaro il concetto so che è complesso perché si sovrappongono due diritti che nell'immaginario collettivo sembrano cose simili no copyright trademark e marchio stessa cosa no sono due cose molto diverse fanno lavori molto diversi e agiscono su cose a volte simili come in questo caso cioè parliamo dello stesso disegno diciamo solo che in un caso questo disegno è opera dell'ingegno opera creativa dall'altro è segno distintivo vi quadra avete qualche commento qualche aggiunta da fare no perché è interessante perché questa sentenza questo caso innesca tutta una serie di interrogativi e questioni interessantissimi dal punto di vista della 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 nuova frontiera della proprietà intellettuale perché la street art è proprio una di quelle forme di creatività che diciamo una delle forme di creatività nuove che pone una serie di interrogativi non diciamo non già non comunemente digeriti dalla della scienza giuridica ad esempio il fatto che l'artista da un lato dichiare di non volersi di non volersi manifestare di fare del suo anonimato una una delle delle leve del suo successo e dell'interesse che la gente ha per lui e dall'altro di rifiutare moralmente filosoficamente l'idea di copyright e quindi di dire io faccio le mie opere volutamente su dei muri e sapendo che verranno presto cancellate perché non mi interessa fare un'attività di poi replicazione e di controllo delle varie copie lascio che sia la gente a mantenere viva la mia creatività facendo le foto col cellulare sul muro prima che esso venga cancellato questa roba qua non è da poco è molto rivoluzionaria quindi tanto di cappello agli artisti ai grandi nomi della street art e in primo luogo a Banksy che è probabilmente il suo il massimo esponente di questa di questa scuola per aver lanciato questo questo questi interrogativi per aver innescato queste domande che adesso il mondo del diritto dovrà cercare a cui il mondo del diritto dovrà cercare risposta dall'altro lato però la questione del marchio a me sembra abbastanza netta nel senso che se lì c'è una società alla quale Banksy ha dato mandato di gestire tutelare i suoi diritti di marchio affinché diciamo evitino utilizzi commerciali non autorizzati quella cosa lì nel senso è diversa e può invece reggere di più sulla sulla parte appunto sulla sulla parte del del marchio l'ufficio della proprietà intellettuale europeo in realtà ha detto no anche a quell'aspetto lì però non è un tribunale cioè quello che la notizia che è girata in questi giorni errata è che un tribunale abbia dato torto a Banksy non è un tribunale è un ufficio amministrativo cioè è l'ufficio marchi dell'unione europea sostanzialmente loro hanno secondo il loro approccio che non è appunto quello di un giudice ma è di un ufficio che deve gestire delle pratiche hanno come dire dato esito hanno dato questa risposta alla pest control che cercava di agire per questo marchio di portare avanti la registrazione del marchio non è detto che la cosa porti poi che che si evolva di fronte al giudice e porti un esito diverso quindi aspettiamo a dire che Banksy ha perso i diritti sulle sue opere che è un po' la notizia che è girata o Banksy non avrà mai diritti sulle sue opere o Banksy non avrà neanche diritti su diritti di marchio sull'utilizzo delle sue opere come come segni distintivi perché sono cose diciamo che vanno a toccare corde diverse diritti diversi e innescano problematiche complesse spero di avervi dato un quadro più più chiaro cambio braccio ancora scusate perché questo effetto stedicam è molto bello ma pesa e quindi fa venire la tendinite spero che qualcuno abbia voglia di fare un commento vedo che ci sono 7-8 persone connesse se mi fate un feedback io leggo dal vivo e se no la cosa migliore che potete fare se vi è piaciuto questo mio intervento è quella di condividere come al solito di fare un bel condividi ai vostri contatti perché quando vi capita di trovare qualcuno che al sabato pomeriggio vi spiega in questo contesto bucolico come funzionano i diritti d'autore sulla street art e gli eventuali diritti di marchi di marchio degli artisti come banksy grazie a voi allora per aver seguito vedo che nessuno fa domande nessuno fa interventi però magari un like me lo potete mettere e un condividi anche tanti saluti da lodi questo è il fiume adda un fiume che si è un po ripreso da quando ero piccolino io che era molto inquinato adesso l'hanno un attimo recuperato e quindi è un ambiente sicuramente rilassante e piacevole anche per la canoa cosa che faceva appunto in giovane età ciao a tutti grazie buon pomeriggio grazie a tutti